Le mani sfiorano, sostengono, si inseguono, amano, mettono a tacere, possiedono, perdonano, colmano, curano, custodiscono, percuotono, danzano, si emozionano. Le mani hanno un loro linguaggio segreto, spontaneo e volontario, non si tratta solo di un supporto coreografico e suggestivo della comunicazione, ma di quella scossa di fondo che spinge verso l'alto, verso il prossimo e verso se stessi. Sono un canale libero tra interno ed esterno, tra selvaggio e formale, che esplicita velatamente il legame dei livelli di percezione corporea, mentale e spirituale, in modo diverso da persona a persona, nel tentativo di connettere chi comunica, trasmettendo le informazioni sepolte dentro ciascuno. Attraverso le mani agiamo nel mondo, plasmiamo, costruiamo, distruggiamo, oltrepassiamo quei limiti imposti dagli altri e da noi stessi. Trasformiamo il dolore, l'amore, la paura in qualcosa che rappresenti le emozioni e allo stesso tempo ci liberi in ogni spazio, in ogni tempo e in ogni ritmo. Michela Chileni Michela Chileni Michela Chileni Michela Chileni